Quando un'azienda va molto bene come la nostra, dopo un periodo di 5 anni, da quando abbiamo rilevata, abbiamo il dovere morale e anche economico di dover dare qualche cosa alla natura, a restituire qualche cosa in forma concreta, in forma concreta intendo dire dare quel supporto sia economico ma anche sociale e anche di comunicazione a un messaggio ai nostri consumatori e non solo, che Garmon c'è sì, ma deve anche ritornare una parte degli investimenti, in questo caso l'associazione della GCC, un'associazione a base in Sudafrica che comunque si occupa del salvaguardio dell'ambiente attraverso una parte di fauna, in questo caso di Noceronti e non solo. Ecco, quello che noi vogliamo dire come Garmon, che siamo comunque, rimaniamo produttori di articoli sportivi, è che dobbiamo, il dovere e questo dobbiamo passare ai fatti, non solo alle parole, perché molta gente si lava la bocca dicendo sì facciamo, facciamo, noi siamo entrati veramente in concreto e stiamo dando un contributo. L'impegno sociale passa attraverso sicuramente la fornitura di prodotti nostri, prodotti che comunque Garmon offre a questi ragazzi, a queste persone che si occupano e non da poco dare l'opportunità a circa 1600 ragazzi che parlano di cinque anni affinché possano avere un'istruzione, affinché possano diventare nel futuro dei futuri rangers per dare comunque a macchia d'olio un incremento a questo tipo di fenomeno educativo. Il Global Conservation Corps, il GCC, il nostro missione, il nostro foco è di conservare la vita per imparare le persone. Come facciamo questo? L'educare le persone, le train le persone e le imparare le persone, soprattutto le comunità locali in Africa, per prendere la loro vita di controllo di loro. Recentemente, il GCC e Garmon hanno formato un'amplice particolare con i nostri programmi in South Africa. Il progetto del programmi, o il nostro partner, è di supportare i rangers. Queste sono i rangers che proteggono la vita ogni giorno, quindi Garmon ha dedicato a dare gli rangers i rangeri. I rangeri sono le cose più importanti per i rangeri perché passano molti distanti nel campo, e l'altra cosa che Garmon sta supportando è l'employmento di professori nelle nostre scuole. Questi professori arrivano a centenze di bambini ogni giorno, e insegnano i bambini il valore della vita di conservazione e creano le leadership in in queste comunità.